Ashtag un sorriso contro la paura Così, dal ridotto del teatro sociale di Bussarsizio, la compagnia teatrale la zattera specializzata in spettacoli per bambini ha lanciato la sua prima diretta Facebook. Storia merenda per stare assieme, continuare a sorridere e ridere e, appunto, far passare la paura del virus che molti bimbi avvertono chiusi in casa, lontano da scuola e amici. La prima lettura animata con Martin Stigoll e Noemi Bassani è stata, a venerdì scorso, il mostro coraggioso che aveva vinto il premio Book of the Year all'Arish Children's Book Award del 2011. La speciale proposta per i più piccoli, che vuole dare un aiuto reale attraverso il teatro virtuale, è proseguita lunedì con la storia profumata della rosa vanitosa. Un altro quarto d'ora di intrattenimento con voci, costumi, ma anche la musica della fisarmonica e persino l'effetto wow del mangiafuoco. Un'alternativa stimolante alla tv, con la possibilità di chiedere di raccontare la propria favola preferita, mandando un disegno. E chissà che, una volta passata la paura, ai bimbi rimanga la passione per gli spettacoli teatrali, da tornare a vedere, speriamo quanto prima, dal vivo. E così, come tutte le nostre storie, anche questa può finire con E vissero tutti felici e contenti!